I commenti negativi e l'algoritmo. Perché i commenti negativi fanno bene al tuo video? Perché costringono le persone a rimanere sul video per scrivere e le altre a rimanere sul video per leggere. Quando parte quella che si chiama la shitstorm, cioè la tempesta di merda di gente che scrive, poi arrivano altri, scrivono anche loro, è un video pieno sotto di commenti, e quello spinge le persone a guardare, a stare su quel video per più tempo, anche due, tre, quattro volte, perché devi leggere tutti i commenti, scrivere la tua. E questo fa sì che l'algoritmo spinga il video ad altre persone, perché lui legge che le persone guardano tutto il video, e anche più di una volta, quindi lo fa vedere ad altri e quindi altre persone lo vedono. E quindi in quelle altre persone che lo vedono ci sono altri haters, quindi altra gente che appena vede un commento negativo, boom, si butta anche loro, e partono queste shitstorm in cui i parrucchieri sembrano tutti degli asini. E c'è qualcuno di voi che dice, oddio, vi sto rendendo conto che forse non so lavorare, perché ci sono questi imbecilli che dicono che non so fare le cose. Chiaramente è solo una piccola percentuale, perché poi lo vedi in megliumeni delle altre cose, dei laghi, delle condivisioni di chi salva il video, e sono il prezzo, tra virgolette, secondo me bello, da pagare per la notorietà. Eh.